Estate, tempo per rigenerarsi, sì, ma come? Staccare la spina via dai soliti ambienti, dai soliti volti, ma per Francesco no. Lui non ama lasciare il suo habitat e così Papa Bergoglio si prepara a trascorrere la sua quarta estate in Vaticano, sempre a Santa Marta. Due anni fa, sul volo di ritorno dalla Corea, spiegò questa scelta con la sua immancabile autoironia. Anche io ho alcune neurosi, ma bisogna trattarle bene alle neurosi, darle il mate ogni giorno. Una delle neurosi è che sono un po' troppo attaccato all'habitat. L'ultima volta che ho fatto vacanze fuori di Buenos Aires con la comunità gesuita è stata nel 75. Sono più di 40 anni, perciò che Francesco non parte per le vacanze. Lontani i tempi di Giovanni Paolo II chiamava a rigenerarsi in montagna, quando era più giovane andando a sciare, poi compiendo lunghe passeggiate ad alta quota. Anche Benedetto XVI è stato spesso in Val d'Aosta, mentre negli ultimi anni ha preferito la pace delle ville pontifice di Castel Gandolfo, dove è stato anche l'anno scorso, i primi 15 giorni di luglio, per godere di un po' di fresco del lago. Ma come fa Francesco a riposare rimanendo nello stesso luogo e lui stesso a spiegarlo? Faccio vacanze, davvero, ma nell'habitat cambio il ritmo. Dormo di più, leggo le cose che mi piacciono, sento musica, prego di più e quello mi riposa.